Rieti Tour incontra Matteo Branciamore, ben arrivato sulle montagne di Rieti, in macchina con il collega Nicolas Vaporidis. Com'è stato questo viaggio per i ritornanti del Terminillo? Guida malissimo, è una cosa aberrante. No, è stato il viaggio tranquillo, siamo vicini e qua si sta molto bene, c'è un'aria stupenda. La prima volta al Terminillo? Quasi? No, quasi, sì, perché da piccolo sono andato una volta, ma mi ricordo poco, ero molto piccolo. Quindi, posso dire presente la prima volta? Peccato per l'assenza di neve, però, insomma, la location può comunque ispirare qualche pensiero sul futuro, visto che non siete più solo attori, ma vi state dando da fare per produrre cose nuove. L'ultimo film è stato girato sul lago di Seo, il prossimo potrebbe essere girato dalle nostre parti. Sì, perché no? Uno dà un'occhiata, vede se è una storia interessante da ambientarla al Terminillo, perché no? Ci sono degli scenari davvero favolosi, i tuoi colleghi stamattina sono stati in quad sulle cime più alte, hanno visitato laghi, cascate, wakeboard, di tutto di più. Sei un ragazzo spericolato oppure? Una volta, una volta quando ero giovane lo ero, no, sì, normalmente sì, dipende. Adesso un po' di meno. Resterete tutto il weekend? Sicuramente fino a sabato, poi tentiamo di capire se è domenica, se rimaniamo qua fino a domenica, quindi la mia risposta sarà sì, forse, vediamo. Dal cinema a nuove piattaforme come cambia il modo di comunicare? Diceva Nicolas, stiamo cercando anche di unire, di creare una rete che coinvolga filmmaker di tutta Europa, non solo dell'Italia, non solo delle nostre parti, ma qualcosa di più ampio, perché l'unione può fare davvero la forza. Sì, in teoria è il nostro obiettivo, adesso detto così sembra, capito, mi sto atteggiando. Il nostro obiettivo è proprio quello di fare qualcosa a livello europeo, non Italia, Germania, Francia, Spagna, UK, cioè una cosa proprio tutti insieme, cioè come sono gli Stati Uniti d'America, loro sono Stati Uniti, noi siamo Europa, ma poi non siamo mai Europa perché è raro fare veramente un prodotto europeo. Al massimo vediamo coproduzioni, questo è forse il goal, cioè provare a fare una cosa del genere. Che risposta state avendo? I giovani in particolare partecipano? Molto, molto, mandano tanti soggetti, tanti concept, tante cose, quindi sì, rispondono bene e molti sono anche talentuosi. Quindi a parte il prossimo film dalle parti di Rieti e provincia, dove... Come può essere il titolo di questo film? Non lo so. No, vabbè, cioè ci suggeriscono Natale al Terminillo per carità, cioè ci mancherebbe, però insomma è un po' quasi scontato nel senso, perdona, no, non lo so. Ci penso e domani te lo dico. Dicevamo Vanzina ha creato la fortuna di Cortina e dintorni, voi potreste darvi da fare per portare un po' di fortuna anche su questo territorio? Sì, oddio. C'è molto da lavorare. Dobbiamo ancora fare tanta strada per fare come Carlo Enrico, senza levarci niente a noi, però sì, perché no, magari tra un paio d'anni e vediamo. Va bene, vi lasciamo alla produzione che sta per partire. Lavori in corso per il futuro? Lavori in corso? Qualcosina c'è, sia drive sia come attore. Adesso il difficile è unire le cose, ma è anche stimolante. Allora, buon lavoro da Daniela Melone e Matteo Branciamore, dal Terminillo che sicuramente sarà rilanciato, speriamo anche grazie al loro aiuto e tutto.